Buonasera a tutti ragazzi Noi siamo Andrea Poggioli da Roma Perché Andrea spesso ci ribadisce quanto lui ci abbia condotto con il successo Luciano è possibile le ringrazio, volevo parlare un attimo con della gente Allora, noi devo dire che eravamo molto tesi prima di questo concerto Perché non sempre riusciamo a comporre della nuova musica, vero Gazzù? Infatti avete notato che nel frattempo abbiamo provato ad avviare l'attività di salumeria E non è andata molto bene, il motivo per cui sono passati tre anni dall'ultimo per la musicale che abbiamo scritto Però diciamo che io ho continuato con il mio progetto su lista Non ce la vedo, è andato molto bene Io adesso sto parlando così, perché non perché sono solange Me lo puoi fare un attimo però? Sole, 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 solange Lo so, lo sognavi Lo sognavi da tanto tempo Comunque ci teniamo veramente a ringraziarvi tantissimo per essere venuti questa sera Grazie a te tantissimi Mi cercherò a spettare la sera E wow È un privilegio secondo me per dare con noi riuscire a continuare a fare i concerti e a suonare la nostra musica E questo privilegio te lo date pure Quindi grazie mille per il canzio di voi e per stare in casa E questo Ermattere il canzio di più Non ci sono sempre progetto E queste cose Con un lavoro E questo è un progetto La casa E questo è un progetto È un progetto È un progetto E un progetto È un progetto È un progetto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti